Accelerare il trasferimento del giudice di pace nei locali di Corso Europa dove si trovava una volta la sezione staccata del Tribunale. E la richiesta che il consigliere Francesco Cardillo ha presentato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale avanzando pure una proposta all'amministrazione. La mia interrogazione è inteso dare un'accelerata, una spinta, uno stimolo affinché si possano risolvere quei problemi che purtroppo si sono rilevati nell'attuale sede dell'ex Tribunale. Infiltrazioni, allagamenti all'interno perché da alcuni punti entra dell'acqua e così come anche uno dei giudici di pace ha rilevato ci si possa, se ci sono le condizioni, rivalere nei confronti della ditta che ha effettuato i lavori. Perché qui bisogna chiarire una cosa, se ci sono le responsabilità e chi ha le responsabilità bisogna ristabilire un principio che paghi o faccia fronte alla risoluzione di quei problemi perché oggi non si può non trasferirsi nell'attuale sede dell'ex Tribunale perché ci sono le infiltrazioni. Quindi io ho dato anche un suggerimento, ossia incaricare uno dei avvocati che sono stati nominati nel nuovo pool legale affinché segua questa vicenda veda se ci sono delle responsabilità, se c'è la possibilità di rivalersi nei confronti della ditta e se c'è che si vada avanti lungo questa strada affinché in tempi brevi si possa effettuare il trasloco non sia a carico del Comune e non siano a carico del Comune le eventuali specie che ci sono per rendere quei locali idonei e finalmente ci possa essere anche un risparmio per lente attraverso la disdetta del contratto di affitto dei locali dove altrimenti si trova il giudice di pace. Abbiamo iniziato un percorso anche come terza commissione la volta scorsa perché abbiamo fatto sì che alcuni locali dove c'erano degli affitti fossero disdettati vogliamo completarlo anche in questa consigliatura affinché ci sia un risparmio reale per lente non soltanto enunciazione di principio ma concretezza.